Molesti e discriminazioni e mobbing sul lavoro. Anche nel Vicentino le vittime sono quasi sempre donne, spesso di imprese piccole e non sindacalizzate. Le denunce sono poche. Lo specifico sportello della CGL quest'anno ne ha raccolte finora 17. 15 di donne, di cui 3 straniere e 2 di uomini. Chi denuncia abusi o soprusi spesso viene malvisto dai colleghi se non respinto. La vittima resta e anziché sanare la situazione licenziando il molestatore, succede ma raramente, è la molestata o i mobbizzati, i discriminati a risolvere il problema, dimettendosi. E l'azienda? La responsabilità è in capo all'azienda la quale ha l'obbligo di vigilare affinché nei posti di lavoro piccoli e grandi non importa ci sia un clima favorevole per tutti, uomini e donne. E quindi la responsabilità diretta è di chi compie ovviamente la molestia, ma responsabilità dell'azienda è di non essere intervenuta per fermarla. I protocolli ci sono anche in provincia di Vicenza. Vanno istituiti dei codici di condotta, dicono alla CGL, va istituita la consigliera di fiducia, figura prevista dalla legge, super parte se preparata nell'analizzare questi conflitti, che secondo il sindacato da noi sono concentrati nel settore orafo. Vorrei in particolar modo puntare il dito nei confronti delle piccole imprese, anche e soprattutto delle imprese artigiane, nelle imprese in cui il titolare e i familiari del titolare lavorano a stretto contatto, gomito a gomito, con i loro dipendenti o ma anche i loro dipendenti. Assistiamo spesso e volentieri a scenatacce fatte dai datori di lavoro nei confronti delle loro maestranze femminili, giustificate dallo stress che i poveretti subiscono a causa della crisi. Lo sportello antimolesti e CGL ha un numero di telefono 342 772 1938. Al via da questo mese una serie di incontri formativi in città e in provincia. Siccome capita.